Buonasera a tutti, eccoci qua, siete pronti per il bollettino giornaliero dei dati. Sono qui accompagnato dal Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, Professor Silvio Brusaferro, che mi assiste durante la lettura dei dati ed è disponibile per domande di carattere tecnico e sanitario. Allora per quanto riguarda i dati partiamo sempre dal dato dei guariti, il totale dei guariti ad oggi è 160 con un incremento di 11 rispetto a ieri, il totale dei deceduti che noi abbiamo registrato sui dati delle regioni è 79 complessivamente quindi abbiamo avuto un incremento di 27 persone sul dato di ieri, 17 in Lombardia, 7 in Emilia Romagna, 1 nelle Marche, 1 nel Veneto e 1 in Liguria. Il totale delle persone che sono attualmente positive e quindi contagiate dal coronavirus sono 2.263, di questi l'88% poi avrete i dati di dettaglio sono situati nelle regioni Lombardia, Emilia Romagna e Veneto. Per quanto riguarda le percentuali di queste persone, 2.263 positivi al coronavirus, 1.000 sono in isolamento domiciliare, 1.034 sono ricoverati con sintomi e 229 sono in terapia intensiva pari al 10 per cento delle persone che sono positive al coronavirus. Oggi è proseguita l'attività nella zona rossa e soprattutto è proseguita l'attività di supporto garantita dal Servizio Nazionale della Protezione Civile, in particolar modo dai nostri volontari, volontari e volontarie che hanno provveduto a distribuire anche le mascherine chirurgiche nei comuni dei paesi della zona rossa del Lodigiano e noi abbiamo distribuito oltre 400.000 mascherine per gli ospedali nelle regioni interessate. Prosegue l'attività di ricerca delle mascherine e stiamo individuando i fornitori, stiamo effettuando altri ordini così come le regioni stanno autonomamente procedendo con l'acquisizione dei materiali. Abbiamo anche dato supporto e qui voglio ringraziare la Sanità, la Sanità Militare, il Ministero della Difesa che ha risposto a una richiesta di supporto da parte della regione Lombardia, sono stati messi a disposizione medici e operatori sanitari della Sanità Militare per affiancare i colleghi della regione Lombardia. Queste sono le informazioni che avevamo oggi da darvi, ovviamente siamo disponibili per delle domande. Prima delle domande completo le informazioni con il numero dei tamponi che abbiamo effettuato ad oggi sono oltre 25.800 per l'esattezza 25.856 pari con un incremento del 10% rispetto al numero dei tamponi di ieri. Il numero delle persone e degli esami quindi positivi al coronavirus da parte dell'Istituto Superiore della Sanità è di 778. Allora diamo spazio alle domande, se ci sono domande, prego. Buonasera, volevo chiedere al professor Brusaferro una cosa. Notizie in più, in realtà sono due domande in una, notizie in più sul professor Cilesi e notizie in più sulla bimba di Milano di un anno, perché se fosse confermato, non so quali sono adesso gli approfondimenti in merito, se fossero confermati questi due casi, coronavirus e quant'altro, i decessi, a mio modo di vedere cambierebbe anche un po' quello che è stato il dato fino a oggi delle morti di ultraottantenni o quantomeno di persone molto in là con l'età e già con pregresse malattie. Perché sembra, e lei mi correggerà su questo, che il professor Cilesi non avesse queste particolari pregresse malattie. Allora su questo dato io non ho dettagli specifici sul professore e quindi non sono in grado di dare delle risposte, stiamo acquisendo questi dati. Per quanto riguarda invece la bambina ricoverata, è una bambina che è risultata una bambina ai primi giorni di vita, è risultata positiva al tampone e non è intubata, è una bambina che viene assistita, era già in un percorso di assistenza post nascita e viene assistita dalle persone, risulta positiva un tampone però sostanzialmente è in un percorso di evoluzione clinica che sta seguendo l'ospedale che l'ha in carico e che viene considerato normale rispetto all'evoluzione clinica. Quindi lei mi scusi se insisto su questo argomento, lei conferma che non è grave la bimba? Per le informazioni che io ho ricevuto fino a un'ora fa diciamo questo rispetto a una bambina lombarda questo è il dato, non so se poi sia qualcosa avvenuto negli ultimi minuti, questo non mi risulta però non ho il dato in tempo reale. Secondo lei se il professor Cilesi se fosse confermata la morte del professore per coronavirus in situazione per così dire normale senza pregresse insomma malattie o quant'altro cambierebbe un po' il quadro di questo, di quello che abbiamo detto fino a oggi? Guardi, condo la sua opinione, non scientifica. No certo in questo momento però esprimersi su questo ovviamente è difficile perché dobbiamo avere un quadro chiaro normalmente nel campo medico quando avvengono degli eventi che si scostano da quello che noi attendiamo i colleghi e tutti noi tendiamo ad approfondire esattamente le cause a capire che cosa è avvenuto. Quindi io prima di esprimermi vorrei vedere la relazione fatta dai colleghi che hanno assistito questa persona e capire esattamente la loro lettura clinica di quanto è avvenuto. Quindi in questo momento io non sono in grado di sbilanciarmi perché devo capire, dovrei avere degli elementi in più per poterlo fare. Sono certo però che i colleghi che lavorano nella struttura dove è ricoverato in collaborazione anche con tutti i colleghi nazionali, tutti i dati che stiamo coordinando, appena abbiamo un quadro chiaro di che cosa esattamente è avvenuto questo sicuramente sarà trasparente, discusso apertamente come stiamo facendo con tutti i dati. Quindi in questo momento non mi sento, non ho gli elementi per darle un giudizio e non glielo do sostanzialmente. Non avendo elementi io di solito parlo di solito parlo con degli elementi in mano che possano rendere evidente o comunque dare un razionale al perché esprimo determinate opinioni o determinati giudizi. Quindi mi riservo di approfondire questo nel momento in cui abbiamo questi dati. Non ci saranno problemi a condividerli. Ci sono moltissimi casi, mi sembra di capire, in particolare intorno a Bergamo. C'è l'ipotesi di istituire nuove zone rosse oltre a quelle che già ci sono? Stiamo analizzando insieme alla regione Lombardia con grande attenzione l'evoluzione dei nuovi casi nei comuni della cintura bergamasca e quindi stiamo vedendo in base a dati di incidenza e quindi di nuovi casi accertati o di nuove positività accertate anche non necessariamente casi sintomatici e in base agli R0, quello che noi chiamiamo sostanzialmente questi valori che rendono ragione della diffusione o della trasmissibilità, se volete, dell'infezione stiamo valutando l'opportunità di fare questo o di prendere in considerazione una misura come questa sulla base però di alcuni criteri epidemiologici, geografici e di sostenibilità della misura. No, non ho detto che si fa, ho detto che stiamo valutando. Buongiorno Giovanni Grezzi, agenzia France Press. Volevo capire sull' approvvigionamento delle mascherine. Si è letto sulla stampa che avete ordinato 400 mila mascherine dalla Sudafrica, è vera questa cosa? Queste sono arrivate dal Sudafrica, è vero attraverso un nostro fornitore italiano e approvvigioneremo credo altre 500 mila fra due giorni sempre attraverso lo stesso canale e lo stesso fornitore. Stesso paese sempre? Sì, noi stiamo cercando in tutto il mondo le mascherine e devo dire che stiamo facendo una ricerca capillare, come sapete anche la Francia, il presidente Macron ha bloccato la vendita, la distribuzione di mascherine per riservarla al loro personale sanitario. Nel nostro paese non abbiamo aziende che producono mascherine, quindi noi viviamo di importazione e ci siamo attivati già da diversi giorni, ormai è quasi una settimana che stiamo lavorando dalla settimana scorsa, trovando i canali per la fornitura delle mascherine per pianificare le acquisizioni. Ovviamente le regioni che sono normalmente gli enti che approvvigionano le mascherine stanno operando attraverso i loro canali e quindi noi è un supporto che diamo a chi ordinariamente acquisisce per gli ospedali, per le strutture ospedaliere le mascherine. Posso anche chiedere un attimo sulle tende che state installando di triage davanti agli ospedali, quante saranno, in quali ospedali? Abbiamo già detto l'altro giorno, se non ricordo male, erano 283 le tende che avevamo, sono le strutture di pre triage, adesso siamo a 309 le strutture che abbiamo installato e anche nelle carceri abbiamo messo a disposizione delle strutture di pre triage e quindi è un'attività in evoluzione, è più semplice reperirle perché sono le strutture che noi abbiamo come protezione civile che le tiriamo fuori e le installiamo per le esigenze. Angela poi Giorgia. Buonasera, a entrambi vorrei fare questa domanda. Dopo dieci giorni diciamo di emergenza si può, dati alla mano, aggiornati ovviamente, si possono fare delle previsioni sia scientifiche ma anche tecniche su cosa succederà nei prossimi giorni e se già ci sono delle strategie nuove per affrontare l'emergenza avete pensato ad altre misure? Allora io parto io poi lascio diffusamente al Presidente Brusaferro. Credo che nessuno di noi possa, come dire, avere la certezza di quello che sarà l'evoluzione successiva. Sicuramente questa settimana è una settimana importante per vedere qual è l'evoluzione della diffusione del contagio nel nostro Paese e, come ho già detto sempre, noi abbiamo una serie di approcci, di piani e a livello di pianificazione siamo pronti a rivedere le nostre azioni sulla base degli scenari che dovessimo andare a incontrare. in senso di una maggiore severità o ci auguriamo anche nel senso di una minore severità. Quindi tutto dipende dall'evoluzione dei dati che noi andremo a constatare. Lascio la parola al Presidente per ulteriori precisazioni di carattere scientifico. Ci siamo detti in varia occasione e io continuo la riflessione fatta dal Dottor Borrelli, ci siamo dati in varia occasione che occorre del tempo per capire l'efficacia o l'impatto di alcune misure e ci siamo dati archi di tempo di 14 giorni per valutare l'impatto. Questo è un dato che stiamo ovviamente monitorizzando, stiamo valutando. Abbiamo un dato obiettivo che viene rappresentato di una diffusione anche se ancora in picco con pochi casi in varie parti in altre regioni del nostro Paese, spesso riconducibili alla fonte primaria, sostanzialmente alle focolai primari. Il punto credo che sia importante da veicolare in questo momento è uno, l'elemento dei comportamenti e della consapevolezza di ciascuno di noi. Io credo che non dobbiamo percepire false sicurezze, dobbiamo essere tutti molto attenti ad adottare le raccomandazioni che stiamo condividendo, che abbiamo condiviso e che continueremo a condividere. Quindi il tema del lavaggio delle mani, il tema del distanziamento adottando almeno un metro di distanza, il tema di evitare luoghi affollati, il tema anche di educazione personale se volete rispetto degli altri, se abbiamo delle sintomatologie respiratorie, il tema dell'igiene degli ambienti, il tema sostanzialmente di evitare come ci siamo detti più volte anche abbracci, cioè i contatti stretti personali che ovviamente riguardano soprattutto nelle relazioni sociali. Questo è un elemento estremamente importante e credo che sostanzialmente dobbiamo continuare a lavorare per tutto il paese, al di là delle regioni già interessate, per un' attenzione a evitare contatti stretti proprio per evitare una rapida diffusione dell'infezione. Questo credo sia lo spirito più importante e questo vale indipendentemente dal monitoraggio che stiamo facendo nelle aree rosse piuttosto che nelle altre regioni. Quindi credo che la raccomandazione più importante in questo momento è quello che l'attenzione personale nel muoverci dentro con delle regole se vogliamo, con degli stili di vita, possiamo dire in qualche modo, che portino all'attenzione verso le vie di interrompere quelle che sono le vie di trasmissione classiche di questa infezione virale. Giorgia, ultima domanda. Buonasera, Giorgia Sodaro di Annecronos. Volevo chiedere qualche dettaglio in più sui morti di oggi, che età hanno e se c'è qualche informazione in più. Allora, i morti di oggi vanno da un'età di 55 anni a un'età di 101 anni. Sono i due estremi. Prevalentemente, come sapete, sono persone che hanno più di 70 anni, per lo più 80 anni e anche 90 anni. Questi sono l'età delle persone. Alcune con, ovviamente, patologie pregresse e altre non abbiamo avuto modo di approfondire se avessero pregresse e patologie. Un'altra cosa. Sui casi 778 confermati dall'Istituto Superiore di Sanità continuano ad essere il 100%? No, questo posso risponderle io. Cominciamo ad avere piccole discrepanze. Questo è dovuto probabilmente anche al fatto che, per facilitare la tempestiva esecuzione di questi esami, sono stati inseriti nei circuiti anche altri laboratori, oltre a quelli strettamente membri della rete delle regioni. Questo è un elemento estremamente importante che ci consente di differenziare. Parliamo però di piccoli numeri, dell'ordine della decina. Però rende allo stesso tempo ragione dell'importanza di avere una validazione perché laddove si amplia questo elemento la validità dei test chiaramente diventa un fattore molto importante. Grazie a tutti. Grazie.